Sono 280 su 287 i comuni toscani esposti ad elevato rischio idrogeologico e quasi mezzo milione di persone vive in un'area potenzialmente a rischio. Sono i dati raccolti in Dissesto Italia, Focus Toscana, l'inchiesta multimediale sullo stato del territorio italiano, nata dalla collaborazione tra Associazione Nazionale Costruttori Edili, Architetti, Geologi e Legambiente e presentata a Firenze alla presenza di Annerita Bramerini, Assessore regionale all'ambiente. Parola d'ordine è la prevenzione con interventi coordinati da un'unica cabina di regia. Per ogni miliardo che non si investe in manutenzione se ne spende 2,2 in emergenza, quindi un dispendio inutile di risorse pubbliche. In questo momento di grande crisi oltretutto quel miliardo che noi potremmo spendere con chiarezza, con trasparenza e soprattutto con programmazione lungimirante porta un indotto di 3 miliardi e 3 nel sistema dell'economia. Esposti a rischio sono abitazioni e famiglie, ma anche 5.500 attività manifatturiere, 528 istituti scolastici, 59 ospedali, strutture che necessitano di interventi di messa in sicurezza. Quindi azioni coordinate e consapevoli di pianificazione, di programmazione, distanziamenti dedicati, congrui nella entità e veloci nella disponibilità e poi atteggiamenti anche consapevoli e maturi da parte della cittadinanza. Negli ultimi cinque anni gli eventi di dissesto in Toscana sono stati 275 ed hanno generato 2852 sfollati e 17 vittime. Tra le zone più colpite restano quelle di Lucca e Massacarrara.